Il castrum di Giulianova va in scena a uno scontro di alta classifica fra due squadre in salute. La Torrese è imbattuta da cinque gare, ma è opportuno evidenziare come stia avendo un rendimento migliore lontana dalle proprie mura, mentre l'Albadriati che è riduce da tre vittorie consecutive. Il match si sblocca dopo appena 50 secondi con la Torrese che passa in vantaggio grazie ad un gran gol dell'ex Davide Di Nicola che dalla lunga distanza disegna una parabola sulla quale Verissimo nulla può. Gli ospiti provano a reagire e al diciassettesimo trovano il pari su calcio di rigore, concesso dall'arbitro Gian Lorenzo che ravvisa un'irregolarità commessa da Mbocco, dal dischetto da Pincelli che non lascia scampo ad Abate. Proprio l'autore del pari, due minuti più tardi, commette un brutto fallo ai danni di Mosca, ma il direttore di gara opta solamente per il cartellino giallo, tra le proteste dei tifosi di casa che avrebbero voluto il cartellino rosso. Alla mezz'ora, Slalom di Selmanai che penetra in area di rigore e finisce a terra, ma l'arbitro, ben appostato, non ritiene opportuno concedere la massima punizione. Al trentaquattresimo ospiti pericolosi, gran palla in verticale di Brenno per Icramellà che si incarta al momento della battuta. Un minuto più tardi si mette in luce Mosca con una conclusione dal limite, palla alta. Con le immagini di Flavio Forcellese passiamo alla cronaca della ripresa. Al settimo minuto occasionissima per i padroni di casa, Santirocco si gira egregiamente in area di rigore, ma spara alto. Al dodicesimo Gian Lorenzo allontana un membro della panchina ospite. Quattro minuti più tardi, destro improvviso di Antichi e palla che finisce fuori di poco. Subito dopo l'allenatore di casa, Cristofari, opta per un cambio offensivo, inserendo festa al posto di un difensore, Bopp. Ma la gara continua a regalare poche emozioni. Al trentaduesimo il neo entrato di Federico impegna Verissimo che si fa trovare pronto. Al trentottesimo però sono gli ospiti ad essere pericolosi, con Pontoni che sgusce in area di rigore ma conclude sull'esterno della rete. Al quarantaduesimo ancora al Badriatica pericoloso in contropiede, con Neri che si trova tra i piedi la palla buona, ma sul suo diagonale Abate è prodigioso salvando i padroni di casa. A tempo scaduto però è la Torrese ad andare vicino alla vittoria. Sul cross di Tini colpo di testa sul primo palo di Gardini che sfiora il palo. Il punteggio però non cambia, finisce 1-1 al Castrum con le due compagini che proseguono la rispettiva serie positiva. Buon punto su un campo ostico e nel finale avreste anche potuto vincerla. Sì, sono d'accordo con te. Non so se sarebbe stato giusto il risultato della vittoria. Forse sì, perché se andiamo a vedere le occasioni migliori le abbiamo avute noi, anche nel primo tempo. Anche se loro comunque sono una squadra che gioca, ci hanno impinzeriato, ci hanno dato del filo da torcere. Lo sapevo perché comunque la Torrese è una squadra di grandissima qualità che secondo me gioca il miglior calcio dell'eccellenza in questo momento. Siamo stati bravi nell'argredire e nel soffocare le loro fonti di gioco. Poi in quelle poche ripartenze potremmo fare male, soprattutto alla fine sono state le occasioni per vincerla. A parte questo ho visto una grandissima prestazione da parte della squadra. Una squadra che non ce lo dimentichiamo. Noi praticamente stiamo giocando all'inizio del campionato senza attaccante centrale perché Torre l'abbiamo avuto per cinque partite. Savo e Marini non ci sono stati assolutamente. Per cui abbiamo fatto veramente di necessità virtù oggi. Di sera fino a mezza punta che è un terzino sinistro. Però stasera sono veramente fiero e orgoglioso di arrivare questi ragazzi. Poi magari in altre circostanze mi fanno arrabbiare, lo sapete, no? Mi incavolo, però tutto sommato in generale di calcare l'albreaccio facendo un grandissimo campionato. C'è veramente da essere contenti del lavoro di questi ragazzi. Cristofari, nel secondo tempo avete provato a vincere la partita ma non ci siete riusciti. Comunque un altro buon punto al termine di questo Tour de Force che vi ha visto impegnati più volte nel corso delle varie settimane. Sì, ho già accennato qualche settimana fa che questo è un calendario folle. Secondo me nei dilettanti fare tutte queste partite dopo un anno di inattività per molti calciatori è veramente difficile, abbiamo avuto tanti acciaccati e quindi secondo me è un calendario veramente pieno di impegni. Secondo me non è possibile in un campionato d'eccellenza fare tutte queste partite ma insomma la federazione avrà avuto i suoi buoni motivi. Rimane il fatto che oggi abbiamo fatto una partita sotto tono, magari è stata probabilmente la peggiore partita dell'anno e quindi ci teniamo stretto a questo punto con un'alba molto organizzata, agguirrita, lo sapevamo. Già ieri avevo dei segnali particolari, non ho visto la squadra cattiva e concentrata come al solito però ci può stare, questi ragazzi tirano la carretta da tantissime partite, stiamo facendo dei risultati importanti. Sento da più parti che questa squadra era stata costruita per fare un campionato importante. Mi permetto di dire che questa è una squadra che ha ridimensionato del 30-40% del budget ha una squadra di 17 fuori quota ogni domenica e quindi secondo me stiamo facendo più di quello che ci si aspettava. Quindi per togliere un po' di responsabilità a questo gruppo che secondo me sta facendo molto bene dobbiamo proseguire su questa strada e speriamo di toglierci delle belle soddisfazioni.